Una notte trascorsa in ginocchiati lungo i vicoli di Vico nel Lazio, muniti di cartonati e petali di fiori per dare vita all'infiorata del Corpus Domini, un tappeto di colori che ha attraversato il comune Ciociaro e che ha fatto da cornice alla processione partita subito dopo la messa della domenica mattina. Al lavoro per una notte intera i cittadini e le confraternite delle parrocchie di Vico nel Lazio per dare vita a capolavori floreali. Una tradizione che affonda le radici nel XVII secolo quando la Roma barocca era colma di feste che diventavano vere e proprie scenografie teatrali. Si pensa che la tradizione di costruire quadri fatti di fiori sia nata nella Basilica Vaticana grazie all'allora noto responsabile della floreria vaticana, l'architetto fiorentino Benedetto Drei. Alla sua morte il testimone fu raccolto dall'artista ed architetto Gian Lorenzo Bernini, autore del famoso colonnato di Piazza San Pietro. E fu proprio Bernini a fare dell'infiorata una delle più famose tradizioni italiane, poi copiata in tutto il mondo. Da Roma ai castelli romani dove si allargò il tradizionale appuntamento del Corpus Domini e delle sue infiorate. Sul finire dell'Ottocento la tradizionale infiorata aveva già balicato i confini regionali. Ed oggi a distanza di due secoli è diventato tradizionale appuntamento da nord a sud dello stivale. A Vico nel Lazio va avanti da quasi 30 anni con l'addobbo dei due chilometri di stradine che intersecano il comune Ciociaro dove domenica sono accorse centinaia di persone per godere dello spettacolo di fiori e colori. Un appuntamento di fede ma non solo, un appuntamento che trae le sue origini dalle feste barocche che oggi trasforma per 24 ore i borghi e le cittadine in capolavori d'arte floreale.